Musica Buonasera dal Tg2000 Nella conferenza stampa di fine anno il Premier Giuseppe Conti ha presentato il piano per il rilancio dell'azione di governo per i prossimi tre anni ed ha annunciato la nomina di due ministri al posto del dimissionario Lorenzo Fioramonti I servizi di Augusto Cantelmi e Caterina Dall'Olio Non uno ma due ministri Nello sdoppiamento del dicastero dell'istruzione dell'università la soluzione trovata dal Premier Conte dopo le dimissioni di Fioramonti Alla scuola arriva la promozione della pentastellata Lucia Azzolina da sottosegretario a ministro all'università In ricerca va il direttore della Federico II di Napoli Gaetano Manfredi Per potenziare la nostra azione sia separare il comparto scuola dal comparto ricerca e università Sembrano appartenenti alla stessa filiera ma hanno logiche molto diverse Nella conferenza stampa di fine anno il Premier Conte traccia il bilancio dei primi quattro mesi del suo governo che inevitabilmente si intrecciano con quello precedente da lui sempre guidato Ma guai a parlare di un possibile Conte terzo Anzi invita i parlamentari che vorrebbero costituire un gruppo di cosiddetti contiani a restare al loro posto Sulla manovra difende le scelte fatte in quella che definisce una corsa ad ostacoli Ma ora promette Conte si passa alla maratona lunga tre anni per completare gli obiettivi di governo dal taglio delle tasse alla ripresa economica alle modifiche del decreto sicurezza TV2000 Augusto Cantelmi Presidente del Consiglio che è sollecitato da una domanda di TV2000 Torna a parlare anche di lotta alle mafie sul dovere di non abbassare mai la guardia Ecco a che punto siamo in questa battaglia alla luce anche delle recenti operazioni non senza polemiche che hanno svelato inquietanti legami tra politica e massoneria Guardi io credo che sia ormai patrimonio comune Patrimonio comune della nostra civiltà giuridica del nostro impegno sociale e dell'impegno politico condiviso da tutta la comunità nazionale e la lotta alle mafie Classe 1982 Siracusana di Lucia Zolina non si può dire che non conosca il mondo della scuola è docente di storia e filosofia oltre che deputata grillina al primo mandato e dal 13 settembre 2019 sottosegretario al MIUR nel governo Conte II insieme all'ex ministro Fioramonti ha seguito diversi dossier tra cui il più importante quello per assumere nuovi insegnanti di ruolo conseguita nel 2004 la laurea triennale ha poi proseguito gli studi ottenendo quella specialistica in storia della filosofia poi ha frequentato la scuola per l'abilitazione all'insegnamento ottenendo il titolo per poter insegnare storia e filosofia superato l'esame ha iniziato a lavorare nel 2008 come docente nei licei di La Spezia e Sarzana ha conseguito anche la specializzazione all'insegnamento del sostegno a Pisa si è iscritta poi alla facoltà di giurisprudenza dell'università di Pavia dove si è laureata nel 2013 insegnando contemporaneamente nelle scuole secondarie di secondo grado metterò tutto il mio impegno per riportare i ragazzi e il loro futuro al centro del sistema di istruzione ha dichiarato un ingegnere invece con un DNA da umanista e un fratello in politica parlamentare PD di cui non voleva seguire le orme Gaetano Manfredi, rettore dell'università Federico II di Napoli è presidente della conferenza rettore università italiane è il nuovo ministro dell'università e della ricerca a chi gli domandava del potere seduttivo degli ambienti romani Manfredi rispondeva negando di voler intraprendere la strada politica sono due i suoi principali obiettivi come ministro ha dichiarato all'Ansa potenziare la ricerca e promuovere la cultura universitaria Andiamo in Somalia, una potente autobomba ha fatto strage a Mogadiscio almeno un centinaio, i morti, oltre 90 i feriti i terroristi islamici di Al-Shabaab hanno rivendicato l'attentato Barbara Masulli Qualche libro stropicciato rimane del pulmino che a Mogadiscio in Somalia stava portando gli studenti all'università ma la devastazione è ovunque, negli ospedali questa è la situazione E poi auto sventrate, via vai di ambulanze e morti tanti morti, quasi 100 secondo la polizia un kamikaze si è fatto esplodere all'interno di un camion stamattina all'ora di punta nei pressi di un checkpoint in un soborgo a sud ovest della capitale Al-Shabaab, gruppo terroristico legato ad Al-Qaeda ha rivendicato l'attacco, uno dei peggiori di sempre nel paese africano secondo solo all'attentato che nell'ottobre 2017 uccise 600 persone Nella Somalia, 28 anni dopo l'accaduto del suo dittatore Siad Barra è tutt'altro che un paese stabile Al-Shabaab, a cui probabilmente è da imputare questo ennesimo spaventoso attentato sono ancora padroni di una parte del territorio dove trovano facilmente rifugio per poi portare attacchi micidiali dentro le città Gli attacchi degli islamisti colpiscono indiscriminatamente civili, istituzioni ed esercito In Somalia, ex colonia italiana, dove da 25 anni vengono inviati i nostri soldati nel tentativo di stabilizzare il paese si concentra il maggior numero di militari italiani impiegati in missioni africane La missione internazionale, quella africana e quella dell'ONU non sono ancora riusciti ad avere successo e questo purtroppo si spiega anche con i legami internazionali di Shabaab che sono appunto legati ad Al-Qaeda e non solo portano attacchi dentro la Somalia ma anche oltre il confine in quel Kenya dove un anno fa è stata rapita la cooperante italiana Silvia Romano anche lei probabilmente nelle mani degli islamisti somali Il capo dello Stato, Mattarella, ha inviato un messaggio al presidente Somalo per esprimergli tristezza su quanto accaduto e confermare il sostegno dell'Italia nella lotta contro ogni forma di terrorismo Una ferma condanna degli attentati è arrivata anche dal ministro degli esteri Di Maio mentre il commissario europeo Gentiloni ha invitato a non abbandonare il paese al caos del terrore In Siria, nella provincia di Idlib, prosegue l'avanzata delle truppe governative siriane appoggiate dall'aviazione russa e cresce in modo esponenziale il numero dei profughi Marco Bergamaschi Una nuova darmatica ondata di profughi che cerca scampo dall'intensificarsi delle operazioni militari delle forze di Damasco e degli alleati russi tra il 12 dicembre e Natale, in solo due settimane sono saliti oltre 250.000 gli sfollati nel nord-ovest della Siria a lanciare l'allarme all'ufficio per gli affari umanitari delle Nazioni Unite molti degli sfollati hanno abbandonato in fretta e furia la zona di Marat al-Numan, nella provincia di Idlib cittadina nel nord-est controllata da milizie ribelli e caidiste per salvarsi soprattutto dai rei daerei la zona del 16 dicembre riportano le Nazioni Unite sarebbe ormai quasi deserta gli sfollati si dirigono per lo più verso il nord della provincia verso il confine turco e sottolinea l'ONU hanno urgente bisogno di sostegno umanitario in particolare di alloggi, cibo e assistenza sanitaria le temperature rigide, aggiunge l'Agenzia Umanitaria aumentano la vulnerabilità della popolazione in fuga il nuovo esodo sta aggravando la già difficile emergenza umanitaria nell'area dove tra fine aprile e fine agosto almeno 400.000 persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case e la Turchia ha dichiarato di non poter gestire una nuova ondata di migranti l'Assemblea Generale dell'ONU condanna la Birmania per gli abusi su i Rohingya ha approvata una risoluzione che condanna le violazioni dei diritti umani perpetrati contro la minoranza musulmana Nicola Ferranti Duro atto d'accusa delle Nazioni Unite contro il Myanmar cioè l'ex Birmania approvata al Palazzo di Vetro di New York una risoluzione di condanna per violazione dei diritti umani 134 i sì su 193 paesi rappresentati contro 9, 9 e 28 astenuti Myanmar certifica cioè l'ONU ha compiuto arresti arbitrari torture, stupri di massa e provocato morti in stato di detenzione contro la minoranza dei Rohingya dall'ONU anche il fermo invito perché il governo birmano combatta ogni forma d'odio non solo contro i Rohingya ma anche contro tutte le altre minoranze solo poche settimane fa la Corte Penale dell'AIA aveva aperto un'indagine contro la Birmania per genocidio accusa respinta dalla leader de facto Aung San Suu Kyi che ha difeso l'esercito forse usate in maniere forti ha detto il premio Nobel per la pace 91 ma quella del genocidio è solo una delle ipotesi nodo cruciale il fatto che Myanmar non considera Rohingya minoranza nativa bensì migranti illegali dal Bangladesh e ancora il paese a maggioranza buddista respinge la minoranza musulmana meglio tutte le minoranze così nei campi profughi del Bangladesh si allunga la fila di chi ha ospitato in condizioni disumane un milione gli esuli per la loro causa come ricorderete si era speso anche Papa Francesco nel suo viaggio in Myanmar due anni fa e oggi anche l'arcivescovo di Angon il cardinale Bo torna a chiedere un impegno per la pace perché non siano discriminati non solo i Rohingya ma tutte le altre minoranze perché paghino i responsabili dei crimini ma non i poveri che vivono ai margini della società rientriamo in Italia una valanga si è abbattuta su una pista da sci sul ghiacciaio della Val Senales tre le vittime una donna sua figlia di 7 anni ed un altro bambino sul posto due elicotteri e le squadre di soccorso che stanno verificando la presenza di altri sciatori sotto le masse nevose le vittime anche i feriti sono tutti di nazionalità tedesca torniamo nella capitale con l'inchiesta sulla tragedia di Corso Francia e spunta il giochino del semaforo rosso il modo in cui i ragazzi della Movida di Ponte Milvio sfidano la sorte il sabato sera ma il legale dei genitori di una delle due ragazze afferma è falso che il gruppo di Camilla avesse l'abitudine di svolgere quel fantomatico gioco Federico Plotti quella sera avevamo bevuto ma niente droga a parlare è Davide Acampora che insieme ad un altro amico la notte tra sabato e domenica scorsi era in macchina con Pietro Genovese proprio nel momento in cui investiva e uccideva su Corso Francia Gaia e Camilla impossibile evitare la tragedia le due sedicenni sono sbucate all'improvviso non ci siamo accorti di nulla dice ancora tutto è avvenuto in una frazione di secondo l'impatto il forte botto e il corpo di una delle due ragazze che rimbalza sul cofano ci siamo fermati subito dopo spiega sono stato io a prestare i primi soccorsi ma mi sono accorto subito che non c'era più nulla da fare Pietro Genovese risultato positivo all'alcol test anche per questo oltre che per l'alta velocità il GIP di Roma due giorni fa ha emesso un provvedimento di custodia cautelare adesso il ventenne indagato per omicidio stradale plurimo e agli arresti domiciliari il 2 gennaio prossimo è previsto in procura l'interrogatorio di garanzia una tragedia che si poteva evitare se il ragazzo fosse andato più piano e scrive ancora il GIP Capitolino se le due ragazze non avessero tenuto una condotta imprudente e spregiudicata attraversando il grande viale lontano dalle strisce pedonali mentre sopraggiungevano le auto secondo quanto dice qualcuno compresa un'amica delle due ragazze proprio in quel punto di Corso Francia in molti attraversano in quella maniera per fare prima oppure e non stiamo dicendo che sia il caso di Gaia e Camilla per divertimento per provare un brivido un gioco pericolosissimo immortalato da questo video che sta facendo il giro del web e aumentano gli incidenti spesso mortali anche per una segnaletica stradale carente l'associazione Consumer Italia rilancia la campagna per la sicurezza Giuseppe Caporaso Oltre il 60% dei segnali stradali non è a norma il 40% degli incidenti sulle strade italiane è dovuto a problemi infrastrutturali tra i quali una carente segnaletica stradale Consumer Italia snocciola i dati e rilancia per il 2020 la campagna di prevenzione per la sicurezza stradale Grazie ai cittadini noi siamo stati in grado di poter segnalare oltre 600 postazioni di segnali che sono fuori norma agli enti locali in alcuni casi abbiamo avuto l'intervento dell'ente locale che ha sostituito la segnaletica mettendone di nuova quindi questo vuol dire che quando il cittadino diventa protagonista l'ente locale poi si sente nell'obbligo di dover intervenire strisce sbiadite cartelli non a norma o obsoleti tante sono le carenze in strada vediamo presente che tutti i segnali stradali hanno una scadenza che va tra i 7 e i 10 anni quella è la targhetta di installazione della delibera di installazione in questo caso noi abbiamo visto che questo cartello è stato installato nel 2015 quindi un cartello a norma ma gran parte dei segnali purtroppo hanno un'etichetta che corrisponde a 20, 30 anche 40 anni fa e all'orizzonte anche il rischio che i soldi per migliorare la segnaletica stradale finiscano per altri scopi alle casse dei comuni siamo molto attenti e stiamo seguendo quella che è la riforma del codice della strada perché grazie a un emendamento c'è un tentativo di distogliere quello che è l'obbligo degli enti locali dalla manutenzione dei segnali stradali e dare all'ente locale la possibilità di spendere come meglio vuole quei quattrini questo crediamo che sia ingiusto è assolutamente ingiusto il fatto che ciò che i cittadini pagano per le infrazioni stradali non sia destinato poi alla sicurezza stradale Buone notizie per romani e turisti sarebbe in dirittura d'arrivo la metro C fino a piazza Venezia a distanza di poco meno di un anno dall'ultima volta la sindaca Raggi è tornata per un sopralluogo nel cantiere della futura stazione Ambaradam Ipponio con lei anche il ministro dei trasporti De Micheli l'apertura della stazione che collegherà quella già esistente di San Giovanni e quella in costruzione di fori imperiali è prevista per il 2024 le stazioni del centro verranno valorizzate ed attrezzate come musei con il materiale recuperato durante i lavori Ancora cronaca da Grigento scoperto un falso invalido al 100% dal 2014 avrebbe percepito indebitamente 64.000 euro Vediamo le immagini con David Murgia Ha fatto finta di soffrire di alcune patologie persino davanti agli agenti della questura di Agrigento che lo avevano convocato la sua messiscena è continuata fin dentro gli uffici di polizia questo signore a 61 anni e di Agrigento dal 2014 percepiva dall'Inps una pensione di invalidità al 100% nonostante fosse assolutamente autonomo deambulante e conducesse una vita normale con tanto di lavoro sono state queste immagini ad incastrarlo qui lo vediamo con la maglia rossa lo vediamo uscire a fatica dalla macchina sorretto da un amico ora guardate queste immagini è lo stesso uomo che tranquillamente esce senza l'aiuto di nessuno dalla macchina cammina normalmente e addirittura lo vediamo fare lavori pesanti come trasportare una carriola carica gli inquirenti lo hanno denunciato per i reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e per aver indotto il pubblico ufficiale alla falsità ideologica in atti pubblici il danno stimato sarebbe quantificato in oltre 64 mila euro per l'uomo è scattata la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in coma da sabato a Padova il neonato scosso dalla mamma è morto e autorizzato l'espianto di fegato e cuore del bimbo gli organi verranno donati ad altri due piccoli pazienti di ieri la notizia che il bambino di 5 mesi ricoverato in terapia intersiva non presentava più alcuna attività cerebrale cambiano le accuse nei confronti della madre da lesioni gravissime ad omicidio colposo è stata la donna una 29enne di mestrino nel Padovano ma di origini vicentine a spiegare di aver scosso violentemente il piccolo all'alba perché non riusciva ad addormentarlo da oltre due ore sono circa 250 mila le persone colpite dall'influenza nella settimana prima delle festività natalizie ma superano il milione dall'inizio dei primi freddi per difendersi igiene e vaccino Francesco Durante un malessere generale starnuti congestione nasale e mal di gola è solo raffreddore o abbiamo a che fare con l'influenza stagionale se proviamo una spostatezza improvvisa accompagnata da mal di testa generalizzato e la febbre si aggira sui 37 gradi e 8 allora quasi certamente facciamo parte della popolazione che si aggiunge alle 247 mila persone già colpite la scorsa settimana dall'influenza come rilevato dalla sorveglianza epidemiologica dell'Istituto Superiore di Sanità negli ultimi mesi tra autunno e inverno invece i casi registrati sono stati in totale 1.360.000 suddivisi maggiormente tra Val d'Aosta Lombardia Friuli Venezia Giulia Emilia Romagna Marche e Abruzzo le situazioni più gravi hanno riguardato sei pazienti ricoverati in terapia intensiva per infezioni respiratorie acute due dei quali sono poi deceduti la principale forma di prevenzione contro l'influenza stagionale è quella di sottoporsi al vaccino specialmente per ultra 65 anni malati cronici e soggetti a rischio di complicazioni bisogna poi evitare la stretta vicinanza con i soggetti infetti non toccarsi occhi naso e bocca e comunque lavarsi sempre le mani in modo accurato ma una volta influenzati è essenziale rimanere a riposo e al caldo bere abbondantemente usare antinfiammatori e antipiretici e assumere con cautela gli antibiotici solo nei casi di complicanze batteriche e dopo le tavolate di Natale gli italiani si preparano al cenone di fine anno Fabio Bolzetta ha chiesto al nutrizionista Giorgio Calabrese quanto e cosa mangiare in questi giorni cercando di conciliare tradizioni e salute intanto partiamo da un concetto che la nostra tradizione si chiama dieta mediterranea quindi non abbiamo nulla contro la tradizione attenzione però perché tradizione quella salutista è una cosa tradizione trasgressista è un'altra cosa nel trasgressismo io ci metto tutto ciò che è fritto tutto ciò che ha tanti grassi allora noi facciamo un'alimentazione gradevole in questi tempi cinque piccoli pasti in uno di questi cinque piccoli pasti ci permettiamo di mangiare una trasgressione che potrebbe essere un primo piatto più importante io vi segnalo oltre al classico spaghetti con il pomodoro gli spaghetti con il pesce perché? perché diventa un monopiatto ha i carboidrati ha le proteine nobili del pesce ha gli omega 3 è digeribile poche calorie e non crea problemi ma negli altri pasti noi dobbiamo sempre inserire frutta fresca frutta secca e tanta verdura e per i festeggiamenti di capodanno si intensifica la vendita anche illegale di giochi pirotecnici a Messina i fuochi d'artificio erano venduti su facebook su un falso profilo la guardia di finanza ha scoperto un uomo che utilizzando uno pseudonimo per non rendersi riconoscibile proponeva sul web materiale esplodente proibito sequestrati 180 kg di botti comprese 128 bombe carta da 6 kg di potenza distruttiva botti illegali sequestrati anche alla Mezzia e a Catanzaro e veniamo alla fatidica ultima notte dell'anno molti hanno deciso di passarla in montagna ma c'è chi ha scelto un agriturismo o un viaggio all'estero Silvia Sacchi ha effettuato per noi un mini sondaggio Capodanno sugli sci o in costume? in costume ma è qualcosa che farai veramente? no qualcosa che sogno io me ne andrei da qualche altra parte Brasile qualche meta esotica sì siamo agli sgoccioli di questo 2019 grandi sogni meravigliosi progetti ma vincere a Capodanno è la semplicità a casa mia come saluterà l'ingresso del 2020? a casa con quel residuo di famiglia che ho organizziamo noi facciamo spesa braciolata così tranquillamente quindi non si parte per nessuna meta esotica no in famiglia quindi Natale con i tuoi e Capodanno pure Capodanno con i tuoi come nelle migliori tradizioni una cosa molto semplice ognuno porterà qualcosa è importante stare insieme stare a teatro tranquilla con un piccolo buffet cerchiamo di stare sereni tranquilli c'è un budget da rispettare o ti concedi anche il lusso diciamo di non pensare no non penserò al budget spero entro i 180 spero perché poi c'è anche il dopo cena esattamente ma si sa siamo donne noi spendiamo secondo Coldiretti sarebbero 8 italiani su 10 a scegliere mete italiane Venezia alla faccia di tutti proviamo ad andare nonostante le previsioni insomma è tutto quello che c'è stato quanto sarà? tre giorni no poi Befana a casa fuori dove? Anzi all'Aquila è una città di rinascita a fianco ai terremotati non tutti hanno però le idee chiare eh che facciamo a capodanno? non lo so proprio sinceramente ancora non lo so forse è Roma in giro stiamo andando per feste cose la notte più lunga dell'anno regala emozioni e soprattutto lascia bellissimi ricordi mi piacerebbe fare quello che facevo tanto tempo fa che cosa faceva? e andavano i veglioni com'erano i veglioni? erano divertenti si divertiva in allegria si facevano nuove amicizie e si passavano la serata così cambiamo argomento in Tunisia tre francobolli che ricordano altrettanti papi africani un'iniziativa per il dialogo tra le religioni e la tolleranza scopriamo chi erano con Paolo Fucili se accadesse dalle parti nostre sarebbe normale e niente più un Papa su un francobollo anche se parlare di radici cristiane d'Europa sta diventando chissà poi perché sempre più scomodo certo è però che senza croci santi papi non solo la nostra storia ma neanche la filatelia sarebbe la stessa sulla sponda africana del Mediterraneo invece no di cui la curiosità attorno ai tre francobolli emessi giusto a Natale dalle poste tunisine dedicati agli altrettanti pontefici africani d'origine Vittore Papa a fine secondo secolo Milziade regnanti all'inizio del quarto secolo e San Gelasio I morto a fine quinto secolo da notare anche per la statistica che la storia dei papi già annovera a dispetto di quanto in genere si pensi papi africani ed asiatici anche ma a quell'epoca tutte le rive del Mediterraneo erano cristiane prima dell'invasione araba del Nord Africa fin oltre lo stretto di Gibilterra da allora la Tunisia è un paese di solida identità e tradizione islamica in bilico oggi tra laicità e intolleranza perciò le poste locali ci tengono a farlo sapere i tre francobolli sui papi sono ispirati ai valori di tolleranza apertura e dialogo interreligioso che ha contraddistinto la Tunisia nel corso della sua lunga storia in chiusura andiamo in Veneto con il divertente flash mob organizzato per i piccoli pazienti dell'ospedale di Sandona di Piave per festeggiare il Natale Silvio Vitelli tutto bene l'unica terapia che serve è la magia del Natale a Sandona di Piave nella città metropolitana di Venezia hanno trovato la cura più efficace che ci sia per alleviare le sofferenze dei degenti durante le feste al primo piano dell'ospedale civile sono ricoverati i bambini qui medici ed infermieri della pediatria radiologia anestesia rianimazione e pronto soccorso hanno ballato per i piccoli ospiti un flash mob allegro inatteso sulle note di Jingle Bell Rock canzone portata al successo da Bobby Helms nel 1957 negli Stati Uniti diventata ormai un classico natalizio in tutto il mondo occidentale come ogni Natale che si rispetti non poteva mancare Santa Claus che ai bambini del reparto ha consegnato i regali un tocco di spensieratezza e di speranza l'informazione torna alle 20 e 30 noi ci fermiamo qui grazie per averci seguito e buona serata a